Si chiama Natalia Nemacinova la tifosa che ha catturato gli obiettivi dei fotografi durante le partite della Nazionale di Casa. Sul web si trovano alcuni suoi video a luci rosse web scatenato con numerosi like alle foto apparse sui social di una bella ragazza bionda, che subito è stata eletta Miss Mondiale dai tifosi. Peccato solo che si è scoperto che la ragazza ha un passato molto particolare, si è infatti scoperto che la giovane si chiama Natalia Nemacinova e che ha partecipato a diversi film hard. E adesso le foto stanno facendo il giro del web per la gioia dei tanti fan. Natalia però ha smentito di aver fatto film hard. Ho lavorato in centri benessere di Mosca ma un mio ex ragazzo per vendetta ha messo in rete i video privati. Ciao!